buona giornata amici da massimo foghetti oggi è martedì 10 maggio 2022 e bentrovati alla rassegna stampa di fan tv stamattina i giornali del carattere nazionale parlano diffusamente di due avvenimenti soprattutto la parata che c'è stata nella piazza rossa a mosca dove la russia ha mostrato i suoi muscoli ha mostrato le sue forze armate ha parlato putin comunque i giornali la definiscono una mesta a cerimonia perché in realtà sopra questa parata dietro questa parata ci sono tutti i segni della disfatta dell'esercito per quanto riguarda l'invasione dell'ucraina almeno per quanto riguarda la resistenza che stanno facendo appunto e con nazionali e con nazionali appunto ucraini per difendere il loro paese l'altra notizia invece riguarda la missione di draghi negli stati uniti è stato ricevuto da biden una missione per la pace il premier è giunto a washington e sul tavolo ci sono le sanzioni da combinare alla russia ma anche le armi da appunto da dare all'ucraina per aiutare l'esercito in difesa del suo paese ma noi parliamo però delle notizie di carattere locale prima vediamo qual è il santo del giorno è un santo straniero ma molto molto conosciuto in italia si tratta di san cataldo è un santo irlandese ma molto venerato soprattutto a taranto dove si trova la sua tomba san cataldo riposa in duomo di taranto nella bellissima cappella detta il capellone infatti al ritorno di un viaggio in terra santa naufragò e approdò in terra di puglia in vita fece molti miracoli che prima si diffusero appunto nella regione poi in tutta italia c'è un detto nel nome del santo un detto che si ripete ancora oggi quando c'è il giorno di san cataldo passa il freddo e arriva il caldo ebbene il caldo veramente sta arrivando passiamo infatti alle previsioni del tempo e vediamo come come il tempo si è rasserenato rispetto alle perturbazioni dell'ultimo weekend giornata all'insegna della stabilità con cieli sereni o poco più nuvolosi temperature massime in aumento arriveranno ai 23 gradi erano sui 17 nei giorni scorsi poi arrivati a 21 ora crescono ancora le temperature massime dunque sono in aumento le minime sono scese fino a 13 gradi i venti spireranno sulle coste da una direzione di nord ovest mentre all'interno da una direzione di nord nord est le temperature sono in aumento e quindi c'è ancora la primavera da godere per dell'arrivo dell'estate vediamo l'apertura sul corriere adriatico eccola si parla di una missione che il sindaco di fano massimo seri ha parlato dell'africa anzi dobbiamo dire che l'africa è particolarmente presente nelle fanese in questi giorni per due missioni una che riguarda la sierra leone dove si è ricato il sindaco massimo seri e l'altra che riguarda la tunisia dove è in atto una collaborazione di fano ma anche di altre realtà per quanto riguarda le start up tunisine bene un po di fano in sierra leone a fare da ambasciatore è stato il sindaco massimo seri che insieme al dirigente dell'urbanistica adriano giangolini e al project manager ivan antoniozzi e sono andati appunto in questo paese africano dove c'è in atto un progetto di carattere europeo di portata triennale finanziato appunto dall'unione europea per rafforzare la governance locale il decentramento amministrativo e lo sviluppo urbanistico nel segno della sostenibilità è una collaborazione di carattere europea di cui appunto il sindaco si è fatto ambasciatore e l'altra invece l'altro progetto riguarda le start up tunisine la città di fano è capofila di questo progetto europeo e ci sarà un incontro della delegazione tunisina proprio a fano nella fondazione cante di monte vecchio di fenile dove si parlerà di agricoltura biologica appunto di olivo soprattutto perché la tunisia è una nazione dove la coltivazione dell'olivo dell'olio è particolarmente florida l'obiettivo è quello di creare start up in ambito agroalimentare incentivando rapporti tra le imprese biologiche del nostro territorio e quelle appunto della tunisia a fondo pagina una bella una bella edificante iniziativa che si è svolta domenica scorsa un cippo in marmo nel piccolo parco di fabio fabio e fabio uguccioni ebbene è stato inaugurato un cippo con delle belle parole a ricordo di fabio uguccioni un uomo semplice dal grande cuore amante della politica e soprattutto della sua città ha fatto della politica veramente un modo di servizio non a parole ma con i fatti si è sporcato tante volte le mani con la terra ha piantato lui stesso il parchetto che è dietro il santuario di tre ponti e proprio durante la festa della madonna della colonna che è terminata domenica scorsa si è inaugurato questo ricordo lo ha fatto lo hanno inaugurato la moglie di fabio e poi il sindaco il vice sindaco il sindaco non c'era il vice sindaco cristian fanesi l'assessore agli eventi etienne lucarelli e poi c'era anche il l'assessore regionale stefano aguzzi che ha svolto anche un ricordo particolarmente personale particolarmente intimo di fabio uguccioni ormai i giornali hanno detto molte cose noi lo ricordiamo come l'ideatore il fondatore della fondazione fano solidale che ha fatto del bene a tante persone in difficoltà con il microcredito e con i libretti della solidarietà con i quali molte associazioni hanno realizzato le loro opere un personaggio indimenticato appunto dalla città di fa e poi si riflette sull'andamento della colle maraton oggi sul corriere adriatico l'iniziativa che ha avuto un grande successo dopo esser stata ripresa dopo due anni di silenzio montanari il anibale montanari il patrone di questa gara sportiva di livello nazionale avverte ora non è più possibile la colle maraton è cresciuta tanto che ora non è più possibile contare sui volontari non basta più rammarico per il mancato uso del pincio dove c'era la mostra a mercato dell'antiquariato e quindi la gara non ha potuto avere questa bella cornice per il suo traguardo finale ci sono poi anche altre pecche da così da considerare soprattutto da rimediare non si può sempre pensare che i volontari arrivino dappertutto e poi il villaggio costruito all'arrivo quello dei pressi della rocca malatestiana ebbene era un po' qualcosa di rabberciato dice montanari occorre insomma sostenere questa iniziativa che è cresciuta tanto e poi è cresciuta tanto come il festival passaggi sono quelle iniziative che così ideate dal niente e poi crescono a dismisura perché sono delle iniziative valide e quindi fanno deve sostenere soprattutto queste perché producono promozione e producono anche economia gli studenti rileggono carlo maggini ovetti e cellulari nelle nature morte carlo mangini è un grande artista fanese vissuto nel diciottesimo secolo era parente di ceccarini insomma due grandi artisti ebbene mangini è noto per le sue nature morte di cui la fondazione carifano ha una bellissima collezione ben tredici dipinti appunto di questo artista barocco e i ragazzi del polo 3 e i ragazzi del liceo artistico apolloni hanno si sono avvicinati all'arte di questo pittore appunto e l'hanno così hanno istituito un dialogo tra contemporaneità e l'epoca delle maggini le nature morte delle maggini sono nature morte con semplici attrezzi da cucina ebbene gli studenti del polo 3 soprattutto quelli del liceo artistico hanno così riversato la loro contemporaneità appunto nell'opera del maggini c'è un dialogo veramente costruttivo un dialogo interessante che è intercorso tra le due parti e di tutto questo verrà realizzato una mostra che verrà inaugurata alle ore 11 di giovedì prossimo all'interno della sede della fondazione dove sono esposte le opere del maggini e poi verranno esposte anche le opere degli studenti appunto delle superiori scuola dell'infanzia scusate scuola dell'infanzia da tutelare perché un unico servizio didattico è il titolo che si riferisce alla scuola di metauriglia che è stata soppressa dall'ufficio scolastico regionale ebbene l'assessore comunale domani incontrerà l'ufficio regionale per metauriglia incontrerà il dirigente marco filisetti con la speranza almeno di mantenere questa importante sussidio didattico questa istituzione appunto nel quartiere anche se i ragazzi che lo frequenteranno sono pochi sono appena nove ma grande sarebbe il disagio se questi ragazzi dovessero essere trasferiti nella scuola di tre ponti che è piuttosto lontano da metauriglia e poi un ritorno del corriere per quanto riguarda la città di giocare che si è svolta a poderino nel pomeriggio di domenica scorsa la piazza torna alla funzione sociale di incontro non più un parcheggio parcheggio diciamo così anche un po squallido disolante bene una piazza è una piazza perché è un centro sociale dove la gente sosta dove la gente parla chiacchiera dove la gente si incontra non un parcheggio dove la gente passa va e se ne va insomma e questo domenica scorsa è stato ripristinato grazie a questa bella iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale poderino e la prima poi ce ne saranno anche altri in altri quartieri della città nei weekend e nelle domeniche di maggio ebbene tanti giochi tante iniziative molto bella quella delle mamme ucraine ospite nel nostro territorio che hanno intrecciato corone di fiori di cui sono state fatte dono alle ragazze e alle donne appunto alle mamme che erano con i loro bambini in questa festa per un segno di speranza un segno di buon auspicio per un futuro migliore fossombrone fossombrone ha festeggiato il carnevale del trionfo o il trionfo del carnevale proloco siamo tornati alla grande commenta appunto l'associazione esultano i vincitori ed ecco tutti i nomi che vengono pubblicati dal corriere adriatico è stata grande la festa del centro storico del quartiere santa maria che per la prima volta ha vinto il paglio del cardinale è un paglio che gelosamente custodirà per un anno far vincere una squadra non è questione di quanto grande siano i giocatori devono tutti essere disposti a sacrificarsi e a dare qualcosa di se stessi pur diventare vincenti è il commento all'unisono che coglie insomma questa bella vittoria e poi passiamo ora alla pagina di pesaro del corriere adriatico dove si parla di spiagge si parla di spiagge e di alberghi albergatori e bagnini pace fatta con la firma del patto dello sdraio c'è stato finalmente un accordo tra le due categorie quella degli albergatori e quella dei bagnini per così ospitare anche i clienti degli alberghi in spiaggia ci sono stati dei contrasti nei giorni scorsi ora finalmente l'accordo è stato raggiunto il protocollo d'intesa è stato siglato dalla Confesercenti, dalla Confartigianato, dalla CNA dall'associazione APA appunto degli albergatori e dal consorzio concessionario arenile spiaggia di Levante di Pesaro riguarda sia il litorale di Levante che quello di Ponente e il comune ha previsto per i ripascimenti che consentiranno alle spiagge di ampliarsi un po' di più quindi di ospitare più ombrilloni e quindi di dare qualcuno di questi anche ai clienti degli alberghi 50 mila euro in aggiunta agli 80 mila che sono stati messi a disposizione dalla regione Marche l'assessore Pozzi ha commentato nei giorni scorsi avevo minacciato di dirottare i fondi altrove in assenza di un accordo ma questo accordo alla fine è arrivato e poi c'è il problema delle spiagge libere le spiagge libere da gestire ci sono le controproposte bando per più stagioni altrimenti non si coprono i costi ebbene è stata confermata a Pesaro la possibilità di prendere in gestione temporanea tratti di spiaggia libera offrendo servizi come il noleggio di attrezzature balneare dai lettini agli ombrelloni quindi anche qualche spiaggia libera potrà essere attrezzata per ospitare appunto i vacanzieri. Mobilità ospedaliera voragine nei distretti serviti da Marche Nord un articolo per quanto riguarda la mobilità passiva soprattutto perché Marche Nord è in difetto infatti l'azienda pesarese nell'anno pre-covid ha ricoverato 1438 malati non marchigiani ma 7226 guardate com'è la differenza 1438 i malati di altre regioni che sono venuti a Marche Nord ma 7226 sono stati marchigiani che sono andati altrove a curarsi fuori regione e questo il dato in cui si concentrano le potenzialità ma anche le debolezze dell'azienda ospedaliera di Pesaro che considerando le specialità di secondo livello soprattutto neurochirurgia e cardiologia interventistica è una sorta di gigante così viene definita dai piedi di argilla. In questi numeri infatti c'è tutta la fragilità dell'attuale organizzazione sanitaria un'organizzazione dove il maggior numero di mobilità passiva della provincia pesarese è in un record per quanto riguarda le altre realtà delle Marche. Rivediamo le norme covid o problemi per la maturità e il problema appunto delle scuole in previsione degli esami di stato va rivisto secondo il preside Rossini e il preside del Marconi va rivisto il provvedimento dell'ufficio scolastico regionale sui docenti guariti dal covid. Potremmo avere problemi ha detto il preside per quanto riguarda la sostituzione negli esami di maturità e sostituire gli insegnanti di ruolo con dei supplenti proprio in questo periodo critico dice appunto Rossini è una decisione veramente brutta insomma da contestare i ragazzi hanno bisogno di tutto il sostegno dei loro insegnanti che li hanno seguiti per tutto l'anno scolastico. E poi vediamo delle notizie di cronaca ce n'è una su cui riflettere è un'altra invece che è curiosa. Ruba le crocchette dei gatti randaggi volontari e scoprono il ladro seriale. E' finito a processo un uomo di 63 anni che rubava le crocchette ai gatti randaggi. Insomma siamo arrivati anche a questo punto ed è finito sotto processo. Ora dovrà svolgere lavori socialmente utili. Il caso è finito davanti al giudice dopo la denuncia dei responsabili della colonia felina che lo avevano scoperto nel gennaio del 2020. Ora dovrà appunto dedicarsi ai lavori socialmente utili. Poi invece c'è un altro caso questo è un altro più più serio. Si è discusso proprio davanti al giudice sempre ieri una causa che vedeva marito e moglie imputati di uccisioni di animali in concorso. Si tratta appunto di un 63enne e di una 58enne per crudeltà e senza necessità sono accusati dalla vicina di aver causato la morte di un gattino di pochi giorni. E poverino l'hanno ucciso. E poi una bella azione condotta dalle forze di polizia anzi dai carabinieri nel casello di Orte. Sono stati sorpresi tre diciottenni che rientravano a Pesaro da Roma. Nella loro auto un cane ha trovato dell'ascis nell'ispezione. Sono stati arrestati dai carabinieri e proprio il nodo, lo snodo anzi di Orte risulta strategico per il passaggio tra varie regioni del centro Italia della droga. A questo punto abbiamo terminato l'esame del Corriere Adriatico e passiamo al resto del Carlino. Il resto del Carlino apre la sua pagina su Fano con una vicenda di un immigrato. Si tratta di Momo, 16 anni, proveniente dal Malì. Ha superato il mare sul barcone ma giocare una partita è un'impresa. Ha l'amore per il calcio, ha la passione per il calcio. Ebbene i fanesi lo stanno aiutando. Lo stanno aiutando, soprattutto è stato incluso nella squadra dei carissimi, però non può giocare, non può giocare perché la federazione italiana per i campionati vuole i documenti, vuole i documenti dove si certifica l'origine, il padre, la madre, eccetera. Ebbene cosa che questi ragazzi che sono venuti da soli, che hanno superato il mare con tutte le loro traversie, non posseggono e quindi lui deve stare in panchina. Peccato una vicenda su cui riflettere, ma soprattutto un problema da risolvere. E poi vediamo Marina Fallita e la Marina dei Cesari. Nessuno tocchi le convenzioni. È un out-out che viene espresso da Paolo Mancini, segretario dello Yachting Club di Fano, una delle associazioni che fa riferimento nel porto turistico Marina dei Cesari. E sappiamo come alla fine del mese di aprile è stata dichiarata dal giudice fallita. Alto là delle associazioni dopo la sentenza del Tribunale. Serve anche uno scalo dall'agio pubblico e locali per vivacizzare l'area. E ci sono diverse associazioni che sono in ansia ora per conoscere la sorte di Marina dei Cesari. Chi gestirà soprattutto la concessione demaniale di questa struttura che è diventata importante perché è uno degli ingressi più importanti della città in fatto di promozione e di economia per la città di Fano. Le carenze, altrove i prezzi sono più bassi e chi sbarca non trova neanche un supermercato proprio lì in zona. E quel bel complesso del Palagei purtroppo non può essere al momento valorizzato a dovere. E poi abbiamo anche sul resto del Carlino l'iniziativa del Polo 3 e del Liceo Artistico a Polloni per quanto riguarda i quadri del Maggini. Gli studenti rileggono l'opera di Carlo Maggini, una mostra in fondazione sulle creazioni dei ragazzi del Liceo Nolfi a Polloni. Invece a Marotta si parla di mosaico. Mosaici da tutto il mondo per il lungomare. È stata presentata ieri a Marotta la seconda edizione del Mosaichiamo la Città Festival che dal 18 al 24 maggio prossimo trasformerà la città balneare cesanese nella capitale del mosaico. E verranno veramente tanti mosaicisti da tutti i paesi del mondo, dalla Germania, gli Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Olanda e altri paesi ancora. Daranno vita ad un evento internazionale di grande impatto, organizzato questo con il sostegno del Comune e soprattutto dell'Associazione Culturale Chiaroscuro che negli ultimi sei anni, grazie appunto al lavoro delle proprie volontarie e dei propri volontari e alle sue iniziative, ha consentito di decorare con bellissimi mosaici quasi due chilometri di lungomare. È diventata una città del mosaico, con una piccola ravenna, insomma, marotta. E oggi si darà l'addio a Don Luigi Merolli, il parroco di Bellisio Solfare, che si è spento all'età di 86 anni. I funerali si svolgeranno nella Cattedrale di Pergola, storico parroco della frazione appunto di Bellisio Solfare, originario di Serra Sant'Abbondio, dove era stato ordinato sacerdote nel 1961. A Don Luigi Merolli si deve anche il restauro del meraviglioso santuario della Madonna del Sasso, di cui era rettore, e la creazione del coro cittadino Giambattista Pergolesi, appunto, sono le iniziative che a lui si devono, insomma, oltre ad un'opera missionaria apostolica veramente intensa e sentita, oltre che proficua. A Urbino, l'Ateneo di Scienze Motorie festeggia i suoi vent'anni. Gli iscritti sono stati sempre in nascesa, le specializzazioni si sono ampliate notevolmente, e Piero Sestili, che è il preside del Dipartimento, dice due decenni di successi. Il 22 giugno, Sigilio d'Ateneo a Mazzanti, l'allenatore della pallavolo femminile Davide Mazzanti, che riceverà questo prestigioso riconoscimento dalla Università di Urbino. Una volta si parlava di ISEF, da dove venivano fuori tutti i professori di ginnastica. Da vent'anni invece si dice Scienze Motorie, ma la sostanza non cambia. Insomma, la scuola è sempre quella. Si cura una realtà importante di grande traino per l'Università di Urbino e la città, tant'è che è tra i dipartimenti che contano più iscritti di tutto l'Ateneo Urbinate. Insomma, veramente una scuola all'avanguardia, sempre presente. Per quanto riguarda gli sviluppi, poi, che questa iniziativa può avere nel mondo dello sport. E poi a Urbino si è celebrata la festa della Croce Rossa in occasione della inaugurazione della nuova sede. Una grande partecipazione per il taglio del nastro. Vediamo il sindaco Gambini che taglia il nastro con altri esponenti. Vediamo qui il vescovo e altri esponenti della Croce Rossa. Il trasloco fatto nel marzo del 2020 in piena emergenza della pandemia Covid. Ora gli spazi sono più funzionali. Due piani, tre uffici, una sala riunioni, cucine e magazzino, oltre che i servizi tecnici. Il Comune comunque ha espresso la sua gratitudine a nome di tutta la città ai giovani che si impegnano in questo sodalizio così importante. Per quanto riguarda Fossombrone, abbiamo invece un intervento di Gloria May. Per il commercio servono proposte forti, ha dichiarato la capogruppo di minoranza Progetto Comune. In alcuni comuni le amministrazioni hanno dialogato con le proprietà. I risultati si sono visti per l'esigenza di calmerare gli affitti. Insomma, il commercio soffre quando i negozi, quando gli affitti dei negozi costano molto, soprattutto in un periodo di crisi come l'attuale, quando gli incassi, insomma, si sono ridotti notevolmente. A Cagli invece c'è stato un bellissimo incontro organizzato dal Rotary Club per diffondere la telemedicina. Quella possibilità di relazionare senza inconvenienti tra ospedale e territorio. Con la telemedicina si possono fare delle diagnosi a distanza e quindi i medici si sono confrontati su questo argomento, come per esempio sulla esperienza di altri paesi europei. Un'iniziativa organizzata sabato scorso ad Acqualagna dal Rotary Club di Cagli in collaborazione col Distretto Rotariano 2090 e il Comune di Acqualagna. Vediamo ora sulla pagina di Pesaro del resto del Carlino una bella notizia di una mamma, di una nonna, di una più che nonna, perché è la più anziana d'Italia. Ha 111 anni. Che fatica alla mia età, ha dichiarato. Si tratta di Domenica Ercolani che ha questo primato a livello nazionale. È una signora ancora sveglia che ha fatto tutte le sue vaccinazioni, tutti i covid. Ormai lei gode ancora buona salute e camperà ancora per molto tempo. Quindi questo noi lo auguriamo. E poi vediamo ancora un'iniziativa che riguarda invece l'Ucraina. Io mamma scappata dalle bombe, mia figlia curata, grazie a voi. È un ringraziamento per la solidarietà del territorio. Ed era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle 20.30 di Occhio alla notizia di questa sera. Grazie per l'ascolto. A risentirci.